L'ingresso abbia il maniglione antipanico, questo però considera appunto il decreto continua citando che l'apertura delle porte e delle uscite d'emergenza è fatta a salva l'adozione di altri accorgimenti adeguti. Quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta a salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificatamente autorizzati dal comando provinciale dei vigili del fuoco competente per il territorio, urto, inciampo eccetera, allora c'è questa deroga che appunto è possibile non adottare l'inverso dell'esodo ma avere altre modalità per garantire la sicurezza equivalente che però dovrà essere autorizzata all'autorità competente. Ed è così che lavoriamo qui a Sintesi Forma, la prima scuola online riconosciuta dal Ministero della Giustizia per i crediti formativi professionali ed accreditata come ente formatore in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Dal 2014 ad oggi Sintesi Forma è riuscita a diventare leader del settore della formazione professionale online, con un catalogo in continua espansione che offre più di 20 corsi completi realizzati con i più alti standard qualitativi. Ed i numeri ci stanno dando ragione. 9.000 visitatori unici al mese, con 87.000 pagine visualizzate, circa 7.000 corsi venduti per più di 8.000 utenti registrati. Forti dell'esperienza acquisita in questi tre anni, vogliamo muovere l'offerta di Sintesi Forma verso nuovi mercati, con l'obiettivo di diventare il riferimento di Educational Technology accreditata in Italia, attraverso una formula che permette un risparmio del 70% sul costo medio della formazione, aumentandone la qualità. Sfruttando la forte scalabilità del prodotto, vogliamo aprirci nei prossimi mesi al mercato della formazione aziendale, un mercato sicuro di 5 miliardi di euro, costituito dalle necessità formative obbligatorie di 17 milioni di lavoratori impiegati nelle imprese italiane. Questo prima di rivolgerci ai grandi numeri degli studenti di università e scuole superiori e medie, dei neolaureati e di tutti coloro che necessitano di una formazione per il proprio ricollocamento lavorativo. Il nostro obiettivo è diventare il Netflix della formazione professionale online, corsi pensati e prodotti per essere fruiti da tutti i dispositivi in qualsiasi momento, attraverso la nostra piattaforma, semplice e immediata. Con continua analisi di mercato, sondaggi e strumenti digitali, costruiamo il prodotto, analizziamo l'utenza e ci prendiamo cura dei nostri clienti. Gamification, mail automation, customer experience, al passo con tutti i nuovi vantaggi tecnologici, rendendo utile, piacevole una formazione online che sarà sempre più parte dell'aggiornamento professionale di ognuno di noi. Ed è così che ognuno dei dipendenti dalla propria pagina personale può seguire i corsi senza mancare le scadenze stabilite dalla legge. Ed è così che il responsabile della formazione in azienda può monitorare l'avanzamento dei corsi e dunque della carriera formativa dei singoli dipendenti. E' equivalente che però dovrà essere autorizzata dall'autorità competente. La quota richiesta sarà utilizzata per continuare a produrre corsi obbligatori e personalizzati per le aziende. A sviluppare la piattaforma con tutte le funzionalità utili alle diverse categorie aziendali. E ad intensificare le azioni di marketing per la commercializzazione del nostro servizio. Sintesi Forma, la formazione a portata di mano.